La prima cosa che ho pensato appena è arrivato è stato... no ma questo non può essere il Lite E invece era proprio lui, Huawei P30 Lite è finalmente ufficiale, lo abbiamo già in testa da qualche giorno quindi posso già proporvi qualche prima impressione su questo dispositivo in attesa poi della recensione completa che arriverà comunque nei prossimi giorni un device che rappresenta l'entrata nella gamma P di quest'anno ad un prezzo molto più accessibile rispetto a quelli di P30 e di P30 Pro ma se volete più informazioni sui modelli, sulle colorazioni e sui prezzi vi lascio l'articolo completo linkato qui sotto in descrizione con tutto ciò che dovete sapere su P30 Lite in questo caso però nel video vi voglio parlare già dell'esperienza con questo dispositivo che si presenta con una scheda tecnica abbastanza normale per la gamma P ma comunque troviamo un processore ancora all'altezza della situazione, il Kirin 710 di Huawei che viene accompagnato da una RAM da 4GB e da una memoria di archiviazione di 128GB espandibili tramite microSD le prestazioni mi sono sembrate generalmente buone a livello chiaramente della gamma P non ai livelli di P30 e di P30 Pro ma comunque questo device non ha messo in luce alcun rallentamento, alcun impuntamento e devo dire anche nei giochi o nell'utilizzo spinto del multitasking comunque se l'è cavata dignitosamente lo schermo anche non è affatto male è un'unità Full HD Plus IPS che garantisce un buon livello di dettaglio e un'ottima risposta del touch molto molto buoni anche i colori ricorda un po' l'impostazione generale dello schermo di P30 Pro che magari rinuncia un po' al livello di dettaglio che comunque qui non ci sarebbe stato in ogni caso uno schermo QHD ma punta molto sul bilanciamento dei colori e questa cosa qui infatti l'ho riscontrata anche su P30 Lite che rispetto a P20 Lite ha migliorato sicuramente tanto la gamma cromatica di questo schermo ho già scattato anche qualche foto perché sicuramente mi ha incuriosito su P30 Lite il modulo con tripla fotocamera anche se poi bisogna un po' capire cosa fanno queste tre fotocamere in realtà infatti abbiamo un sensore TOF quindi per monitorare, rilevare e gestire la profondità di campo con la modalità ritratto ho provato qualche scatto in modalità ritratto e devo dire le foto vengono davvero piuttosto bene per quanto riguarda invece i due sensori principali quelli che si occupano veramente di scattare le foto abbiamo un'ottica di base che come tra l'altro si può leggere sulla parte posteriore del dispositivo Huawei ne va assolutamente fiera è un'ottica da 48 megapixel mentre poi abbiamo anche una lente ultra grandangolare per scatti un po' come abbiamo visto su P30 e P30 Pro che permettono di far entrare nella scena tutto ciò che vogliamo catturare magari in un bel paesaggio o in una foto di gruppo anche qui devo dire molto molto buona la resa chiaramente non siamo al livello di dettaglio dei top di gamma però devo dire ho riscontrato anche una buona gestione proprio della parte esterna della foto quella che di solito tende sempre un po' a distorcere ma in questo caso devo dire ho notato un effetto davvero davvero molto contenuto sicuramente più contenuto anche rispetto a quello del Galaxy S10e che diventa un vero e proprio rivale almeno di nome di questo P30 Lite e poi vabbè ci sono tanti altri discorsi da fare ma approfondiremo chiaramente nella recensione ad esempio su questo device non troviamo un sensore di impronte integrato sotto lo schermo chiaramente ma il sensore posteriore che per alcuni versi è ancora più comodo perché comunque il dito finisce proprio lì in più si possono utilizzare le classiche gesture di Huawei per far scendere la tendina delle notifiche o per scorrere nella libreria foto insomma ci sono alcuni vantaggi ancora di avere un sensore di questo tipo e tra l'altro è un sensore molto molto veloce in aggiunta chiaramente al sensore di impronte c'è anche il riconoscimento del volto che supporta il Race to Wake e quindi possiamo sbloccare il telefono semplicemente sollevando il dispositivo possiamo subito entrare all'interno del menu oppure fermarci nella lock screen e poi fare uno swipe up per sbloccare il device chiaramente questo però è uno sblocco di tipo 2D quindi non è sicurissimo e soprattutto di notte non vi darà grosse garanzie e poi vi voglio già dare anche qualche sensazione sulla batteria perché sono sicuro che ne vorrete sapere di più su questo la batteria all'interno di questo P30 Lite da 3340 mAh purtroppo non supporta la ricarica wireless pur essendo in vetro il telefono ma soltanto la ricarica rapida devo dire molto rapida con il connettore usbc e con l'alimentatore incluso in confezione a livello di sensazioni iniziali vi posso dire il telefono comunque garantisce una buona autonomia si fa la giornata senza problemi anche con un 20-30% a fine giornata quindi siamo più o meno in linea con le autonomie della gamma P30 di fascia più alta quindi di P30 e di P30 Pro tutto questo però chiaramente ad un prezzo molto più accessibile quindi non parlo solo di batteria ma parlo di tutte le altre caratteristiche che rendono questo telefono veramente un dispositivo che sembra meno light del solito e allora lo approfondiremo sicuramente meglio tra qualche giorno ma intanto insomma questo è P30 Lite fatemi sapere cosa ne pensate e come vi ho detto se volete maggiori informazioni vi lascio l'articolo completo alla presentazione di questo dispositivo qui sotto nella descrizione del video ci rivediamo molto molto presto con la recensione di P30 Lite e poi ci rivediamo molto presto Grazie a tutti